Ciao a tutti, sono in partenza per i mondiali di Linz che iniziano questa domenica. Ci tenevo a ringraziarvi per il supporto che mi avete sempre dato e quello che mi darete, spero, la settimana prossima durante le gare di questi mondiali che saranno molto importanti per me e per la mia carriera e soprattutto per la qualificazione olimpica per l'anno prossimo. Grazie a tutti!